Mi hanno vietato di poter fare commenti e quindi non li farò, cercherò di tenere la telecamera dritta il più possibile. Grazie a tutti. Guardate come vola bene Gravuria però, dopo il suo schianto in camera. C'è da dire che quando ci sono io vola sempre molto bene. Nooo, e adesso sarò io che dovrò andarla a prendere in quella melma schifosa. Gravuria è caduto nel fango, scusate se muovo un po' la telecamera. Gravuria. 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 Ha preso gravuria? Sì, sì. E sta ritornando vittorioso Questo è il video più divertente della storia No, ti prego, mandamelo No, mettilo su Arduino, guarda Lo cancello perché... Questo voglio averlo io, lo metto io su Barone Rosso Tu come al solito hai fatto